Come sono fatte le vostre liste, di chi sono composti in prevalenza? Noi abbiamo scelto il 30% dei nostri candidati con delle primarie online, abbiamo fatto votare tutti i nostri iscritti a dimostrazione che partiamo dal basso. Tanti amministratori anche con noi e chi ha scelto di fare questa nuova esperienza con l'Italia dei Valori? Persone normali, la nostra idea non abbiamo bisogno né di giullari né di attori né di grandi rappresentanti per captare quello che è il consenso senza le idee. Noi puntiamo alle idee con persone normali che ogni giorno vivono la vita italiana e cercano di sbarcare il lunario, ecco con quelli vogliamo tornare in Europa.